C'è un archivio fotografico di 1.300.000 rotti scatti, almeno questo era l'inventario ultimo, magari nel frattempo si è incrementato, ma insomma tutelato, pensate un po' dai beni culturali, che è di proprietà di colui che quegli scatti ha fatto e che è un testimone del nostro tempo. Nel futuro le giovani generazioni, noi, avremo due fonti secondo me per capire che cosa è successo in questi anni nella società italiana, non parlo della politica, la politica e la società italiana, YouTube per vedere i video e le immagini in movimento e le foto di Umberto Pizzi. Il quale, Umberto Pizzi, è classe di ferro? 37 37, 1937, vabbè, portati splendidamente. Sono ancora pochi. Sono ancora pochi, lavora sette giorni su sette? Sì, diciamo. Diciamo? Quante ore Pizzi? Non lo so. Senza orario? Senza orario, dipende dagli eventi, stancarsi un secondo dopo il soggetto con cui si ha a che fare. Io lo definisco un testimone del tempo, nel senso che certifica con le foto che sono finite nei libri che ho fatto vedere prima e che si possono trovare sui giornali diversi a cui collabora e al sito appunto internet d'Agospia, certifica qual è l'evoluzione del costume del nostro paese. Aggiungo che Umberto Pizzi, che si definisce un uomo di sinistra, lui ancora, sì. Assolutamente. Comunista? Assolutamente. Senza pentimenti, senza sé? Assolutamente no. Assolutamente no. Ha cominciato a collaborare con D'Agostino nel 2000, quando è iniziato il sito, diciamo così. Esatto. All'inizio c'era Budella 2000. Sì. E poi la sfilza di Cafonal, Super Cafonal, Ultra Cafonal, Cafonalini, in cui personaggi della politica, del costume, della cultura, della moda, dello spettacolo, del cinema, della canzone, vengono ritratti non in posa, nel senso che sono foto in studio, ma si mettono in posa appositamente davanti a Pizzi, che non è un paparazzo, cioè non ruba le immagini, anzi. No, le mie immagini descrivono le varie situazioni e i personaggi hanno cominciato a capirmi, forse a causa dei capelli bianchi, allora hanno un certo rispetto e si fermano. E a me dà fastidio quando si fermano, perché io li voglio in movimento, voglio la... Mi fate vedere Berlusconi alla parata del 2 giugno? Qua non mi sembra in movimento, però... Ma lui è sempre un movimento. Adesso forse... La scorsa settimana, lo scorso sabato ero all'Euro a fare lui e era... Eccolo, è stato... Ci vuole anche un certo tempismo nel cogliere, il famoso cogli l'attimo, diciamo così, fuggente. No, ma lì è che bisogna, quando si ha un soggetto, lo si studia e lui ha per abitudine questi gesti. Di cercare il telefonino in tasca. Sì, esatto. E allora l'ho aspettato. L'ho aspettato. Senta, tolgo una curiosità, così ci chiariamo le idee immediatamente. Berlusconi, le ha mai chiesto di comprare le foto sapendo che lei aveva uno scatto come questo? Anzi. Che non è diciamo molto istituzionale. Berlusconi non mi ama affatto. No. No, assolutamente. E non mi ha chiesto mai... Nulla. Nulla. Quando vado a fare le foto agli avvenimenti c'è l'uomo di Berlusconi che non mi pedisce niente. Io lavoro tranquillamente. Quindi molto libera. Ma sì, no, no, ma io l'ho specificato. Io vengo qui per fare foto e venderle. A me mi chiedono un tipo di foto e io le devo fare. Per cui mi lasciano fare. Però non mi favoriscono niente. Perché se c'è un avvenimento e io gli chiedo, presidente, posso entrare? E lui mi risponde, tu no. Per cui non entro. Però non mi... Parliamo un attimo invece di Gianni Agnelli. Facciamo un piccolo flashback. Perché intanto lei ha cominciato a fare il fotografo di rapina, diciamo. Allora, di rapina ho cominciato a fare il fotografo di rapina per necessità. Io facevo il fotografo alla FAO. Alla FAO? Sì. E stavo diventando un soggetto sotto protezione della FAO. Perché si moriva di fame. E allora, picture editor della FAO... Anni? Anni? Di che anni stiamo... 1960. 60. Il picture editor della FAO, un'americana, mi disse, ma sai, perché non controlli i paparazzi? Era anni 62 e io li osservai. Dopo sei mesi capì che quella era la strada per poter riempire il famoso stomaco prima della sera. E così io ho fatto questo. Ma negli anni 60 e anche dopo, uno dei suoi soggetti è stato l'avvocato Agnelli? Sì, assolutamente. L'avvocato Agnelli era il re d'Italia, praticamente. E lui che aveva una famiglia molto allargata... Intanto, vogliamo cominciare a vedere qualche scatto dell'avvocato Agnelli dell'epoca, anche in bianco e nero? Sì, sì. E lui era un soggetto molto interessante, però era molto attento, era uno un po' pazzo. Con chi l'ha sorpreso? Ma io l'ho sorpreso con tre o quattro fanciulle, tutte molto giovani. Ma quattro insieme o quattro nell'altro del tempo? No, no, una per volta. No, è quattro fanciulle. L'ultima con cui l'ho sorpresa è in 1980, il periodo famoso della cassa integrazione, 100 mila, non so, ricordo. E l'ho sorpreso al Gekio all'uscita con una modella americana. Una modella americana. E in precedenza con chi? Beh, la Monica Guaritore, la Rossanna Podestà. Rossanna Podestà. Sì, ma tutte, diciamo, del cinema. Ma l'avvocato le ha mai chiesto di comprare... Guarda, solo una volta mi è intervenuto l'uomo dell'avvocato, che è l'attuale presidente della Ferrari. Cioè, Luca di Montezemolo? Sì, il quale mi ha cercato subito, dopo le famose foto al Gekio, mi ha cercato. E la mattina alle 7 mi è arrivata, non so come ha fatto avere il telefono, mi è arrivata la telefonata, noi vogliamo comprare le foto, io gli ho detto, a voi non ve le vendo, se volete fatemi chiamare da un giornale, io lo vendo solo a un direttore dei giornali. Ah, quindi mi faccia capire, lei non ha fatto gli scatti mettendoli poi in vendita, purché qualcuno li copri? No, la sua finalità era comunque farli pubblicare. Quindi lei dice a Montezemolo, se mi chiama un giornale che le vuole pubblicare le vendo, se no, no. Giusto? L'avvocato era uno molto potente, il quale quando arrivavano le foto nella redazione, chiamavano l'avvocato... Questo è un Montezemolo in una serie di scatti a Cortina, probabilmente. E quando arrivavano le foto, lo chiamavano e dicevano, avvocato, ho delle sue foto, io le tengo da parte. Eh, invece lei dice a Montezemolo, o me le compro un giornale, o cince. Chi la chiama? Beh, l'avvocato voleva le foto la stessa giornata. E si vede che non riuscivano a chiamare. E mi ha chiamato un giornale che si chiama L'Eco dell'Industria. L'Eco dell'Industria? Che era della Fiat. Ah, un giornale della Fiat, L'Eco dell'Industria. Mi hanno fatto regolare tutto quanto e mi hanno pagato. E l'hanno pubblicata sull'Eco dell'Industria? Ma no, assolutamente. Ah no, cioè, comunque, diciamo, la forma era salva. Sì, sì, sì. Prima di andare in pubblicità, vogliamo vedere la foto che le ha fruttato, se le mie notizie non sono scorrette, 130 mila dollari al netto di tutte le spese scattate nel 1990, alla baronessa Francesca Vontissen, credo in un palazzo veneziano, la quale aveva lo strascico un suo amico, glielo solleva, e lei in quel preciso istante, come con Berlusconi, Zack. Qual è la caratteristica di questa foto, Pizzi? Beh, questa è... Guardi, commenti la signora... Vabbè, questa in effetti è stata una delle ultime grandi feste del passato millennio. E questa qui, poverina, si era dimenticato qualcosa prima di uscire. Sì. E io l'ho documentato. E lei l'ha punita. Va bene, l'ha documentato. Bravo, Pizzi. E andiamo per la pubblicità, ci vediamo un'altra bella infornata. Guardi quante foto abbiamo. Guardi. Allora, Pizzi, adesso mentre noi chiacchieriamo, vediamo un po' delle foto per cui lei è giustamente celebre e temuto. Ah, tra l'altro, lei a un certo punto ha detto una frase che più o meno suona così. La famelicità dei VIP che si buttano alle feste sui buffet mi ha sempre fatto ribrezzo. Conferma o...? Assolutamente sì. Perché come mangiano i VIPs? Ecco la S perché è plurale. Il gesto del mangiare, in effetti... È naturale, tutti noi mangiamo. No, ma naturale se uno lo fa in una certa maniera. Sì. Quando ti ingozzi... Sì. Quando ti ingozzi. E lì si ingozzano. E lì si ingozzano. Vogliamo vedere, lo dico al nostro regista, qualche foto sia qui in studio che a casa in rapida sequenza. Credo che abbiamo preparato una serie di scatti all'insegna del Magneno. Ecco, questo è Cristiano Valgioglio insieme a Silvana Giacobini. Poi, vediamo un po'. Lei, dica, dica. Allora, questo è... Donofrio. Sì, che è stato anche ministro della pubblica istruzione. E quindi? Si vede che ha imparato molto bene da nel mangiare. Sì. Poi, vediamo. Ecco. Questo è il ministro Matteoli. Matteoli. Con Casini. Vabbè, si commenta da solo. Questo è... Il sindaco alemanno, il presidente della Lazio, Lotito. All'ottavo mese, direi. Sì, direi. Poi? Eh, sempre questo dai. Lotito è in una festa campana. Campestre? Dove? A Uvindoli. No, no, qui, in una villa... Ma è che a Uvindoli. No, per dire. Questo tutt'al più va all'Appia Antica. Ah, a tutt'al più. Prego. Questo è il presidente con Falonieri. Sì, che... Vede, bello, eh? Sì. Ma lei ha la passione... Andiamo, andiamo, vediamo. Con calma. Ecco, questo è il professor Sartori. Sartori è assistito. Il politologo per eccellenza. È assistito da Isabella. Assistito da Isabella? Chi è la signora? Isabella Gerardi è la sua, praticamente, la... Praticamente? Badante. La sua? Badante. Badante? Sì, una... La fidanzata? La fidanzata. Eh, ok, la dice badante, dice... Vabbè, si dice badante. Ma si dice badante. Prego. Vabbè. Mastellix. Sì, Mastellix che si esegu... Poi? Ah. Vabbè, però, mentre le foto vanno, rilevo che tutti noi, se fossimo immortalati, mentre ci infiliamo un boccone, un boccone, più o meno, certo, così è abbastanza inquietante, sembra Hannibal Lecter, ma... Eh, prego, andiamo avanti? Vabbè, questo Gianni Retta, anche lui. Già è più... Gianni Retta, di tutto si può dire, ecco, esatto, credo che sia composto come persona e come politico, soprattutto, anzi, averne di moderati composti con l'aria che tira. Vediamo. Ecco, Gasparri. Ah, beh, qua, Gasparri è quasi umano. Sì, ma stasera vede il coso, quello che copia Gasparri. Ah, Marco Re dopo, sì, sì, che copia, imita, imita, imita. Clona, poi? Clona. Vediamo. Vabbè, la russa, qua, sono tutti insieme. Ah, dietro c'è il famoso cuoco, chef. Controllava se gradiva. Chi? Ah, controllava se il piatto era gradito. Cioè, Vissani, il cuoco di, prima di D'Alema, poi di Destra, un cuoco di regime, di qualsiasi regime, diciamo, però va bene. Poi, beh, Vittorio Feltri ha un concorso ippico, credo. Sì, sì, lui è amante dei cavalli. Dei cavalli, credo che ne possega anche alcuni. Sì, ma mangia uguale come i cavalli, eh. Mangia come i cavalli. Senta, ma l'hanno mai menata come lei si meriterebbe? Mai? Chi è? Ah, questa è Silvana. Sì, Silvana. Silvana Pampanini. Si riconosce dal... Da cosa si riconosce che è Silvana Pampanini? Non ho mezzo. Dal trucco, certo. Non l'hanno mai... Non è mai venuto alle mani con qualcuno? No, 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 no. Le faccio dei nomi. Le faccio dei nomi. Depardieu. Ma Depardieu gli ho menato io. Ah, pure? No, gli diede un cazzotto. Lui sparò un cazzotto, lo evitai, glielo diede io. Lo raggiunsi proprio qui. Al mento. Ma ero giovane. Sì. Insomma, non piccolino. Quindi quando hai incontrato Roman Polaschi, che è piccolino... Ma Roman Polaschi, poverino, mi faceva pena, perché si era attaccata alla camicia. Sua? Dico, ma che gli faccio? E che gli ha fatto? Che gli ha fatto? Intervenuta la polizia, l'ha sollevato. Ma insomma, era come menare alla Croce Rossa. Certo. Invece lei poi si occupa... Lei è un estimatore delle donne? Assolutamente sì. No, non è obbligatorio. No, no, no. Ecco, quindi lei tra i suoi soggetti prediretti, quando ci sono queste feste a Roma, ma anche a Milano, perché ho visto oggi che erano pubblicate sul sito di D'Agostino le foto della presentazione del libro di... No, non sono mie, sono io, no. Ah, però lei ha fatto scuola, quindi sembrano sue. Ma vogliamo vedere alcune delle signore della categoria a tutto gas, diciamo così, che lei ha una passione... ecco, questa chi è? Eh, questa è Marina Doria di Savoia, la principessa, diciamo. Sì. Poi vediamo, vediamo, perché c'è un filo conduttore in questa... Questa è una trasformazione, questa secondo me è un ritorno a Neandertal. Un ritorno a Neandertal. Sì, perché a forza di truccarsi, ritornano adesso... ecco, guardi, è tremendo, è tremendo. Io in questi casi, perché io la conoscevo giovane questa, era bellissima. Sì, ma non dica così, ancora una bella donna, eh. A quest'altra la signora... No, non dica cose sconvenienti. No, 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 assolutamente. No, perché ha fatto il cesto con le mani. No, ho fatto, sono andato lì e gli ho detto, è roba sua o importata? E lei mi ha guardato così. Sì, poi... Era importata. Era importata, sì. Questa è Titti di Savoia. Titti di Savoia. Famosa per le sue storie con Maurizio Arena, negli anni Sessanta, che fu una cosa... Poveri ma belli, cos'era? Sì, esatto. Era quel periodo lì. Poi... Questa... Questa chi è? Questa è una signora al Teatro dell'Opera... Sì? ...il quale mi ha guardato, si è un po'... E mi ha detto, che te paro? E io gli ho detto, parra quello che vuoi. E allora forse Roberto... Queste sono due signore patriottiche, perché avevano la coccarda per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sì, sì, beh, insomma... E insomma? Li mostrano, eh. Mostrano che? I 150 anni. Vada! Ecco. Questa è... Io le confesserò una cosa, lei non se ne abbia male, lo dico anche con i diretti interessanti. Io spesso non so chi siano, cioè nel senso che proprio vedo... Non ha importanza chi siano, quando lei va ad un comizio, ad un comizio e vede certe... Non guardi il soggetto che parla, l'importante, diciamo Berlusconi, si guarda alle spalle e vede dei soggetti... che l'ombroso sarebbe contentissimo di avere tanti soggetti. Sì. Questa qui, di qua... A sinistra? Sì, a sinistra. Sì. E quella era la moglie di John Ford, l'uomo più ricco d'America. Sì. Ed era bellissima, questa forza da... da mettersi roba... Creme, creme, diciamo. Sì, creme, e c'è avvenuto il crollo. Sì, te credo, anche del marito, il quale ha preferito una fine senza spavento o uno spavento senza fine, perché è una roba... Ma però... Questa, insomma... Questa, gli puoi dire pure, sì, sono mie, però credo che sia uscita e è passata dal gommista e gli ha fatto una gonfiata. Oh, siccome però... Vabbè, è sempre la signora di prima che festeggia i 150 anni. Credo che anche tra il Parlamento... Che è la Milo? Sì, la Milo. Grande attrice, musa di Federico Fellini. Guarda, era di una bellezza la Milo, non puoi immaginare. Non puoi immaginare. Beh, è ancora una bella donna. È dura, eh? Era la musa di Federico Fellini? Sì. Perché lei con Federico Fellini non si prendeva? Perché Federico Fellini... Sì. Nel suo film La Dolce Vita... Sì. Trattò i fotografi in una maniera proprio cattiva. Ma come era incentrato sulla vita dei paparazzi. Va bene, ma lui sfruttava i paparazzi. Però non ha certamente esaltato i paparazzi. Erano dei soggetti pessimi. Li ha fatti vedere in una maniera proprio brutta. E poi lui, lui che si parlava di storie d'amore con la Giulietta Masina, lui gli metteva tante di quelle corna a Giulietta Masina. Più di un camion dell'umache. Più di un camion dell'umache. Questi sono Gasman, De Filippo e Mastroianni, no? Sì, erano tre grandi. Tre grandi. Che anno sarà stato questo? Questo è il 1900... Giovani e bambini. 79-80. 79-80. Sì, 32 anni fa, eh. Abbiamo uno scatto anche di Sofia Loren fatto da Pizzi. Perché gli devo chiedere una cosa. Questo era? No, questa... No, è Sofia Loren con Carlo Ponti. Ma che glielo devo dire io? È Sofia Loren con Carlo Ponti. Ma credo ne abbiamo una anche più recente, probabilmente. Ho capito. Dunque, mi spieghi una cosa, eh. Lei, è vero che a causa di Sofia Loren... Eccola qua. Io ho passato due giorni in un carcere, una specie di carcere. Dove? A San Lusia, famosa isola dell'impiccio, roba del genere. Qual è l'impiccio? L'impiccio della storia di Fini, di Monte Carlo. Ah, della casa di Monte Carlo, la triangolazione della società estera. Ed è, mi ha fatto passare due giorni in galera lì. Sofia Loren? Sì. Perché? Perché la inseguivo da Parigi, volevo vedere che faceva. Eh, anche lei che glielo importava, che andava in vacanza al mare. No, che in vacanza, stava girando un film. Ah. E probabilmente c'aveva anche l'uomo dietro. Carlo Ponti. Ma quale Carlo Ponti? Sì, vabbè. Io devo salvare... Non era, non era, era un altro. E mi ha fatto passare due giorni dentro questa galera. Con quale, dicendo cosa? L'accusa è, che era il 1978. Sì. E mi accusarono di essere entrato nell'isola. Sì. Di soppiato. E era il periodo delle biere. Sì. E dopo due giorni che mi hanno mantenuto con rum e moschitos dappertutto, e mi hanno messo su un aereo per la Florida e mi hanno cacciato via. Io mi sono legato, prima di andare via, ho fatto una lettera alla Loren e gli ho detto la ringrazio ma ci rivedremo. Vi siete rivisti? Un anno e mezzo l'ho beccato a Parigi con il manzo. Con? Con il manzo. In macchina. Ed è stato un grosso scoop. Con il manzo in macchina? Sì, sì. Un manzo criminale, che cos'era? Sì, ma no, era un professore, un famoso scienziato francese. Si chiamava... Vabbè. Etienne Beaulieu. E erano stati in un piede a terra. Poi, quando l'ho uscita, li ho aspettati al momento che dovevano passare da una macchina all'altra, l'ho beccato e le foto, cioè, non andavano commentate. Ma chi gliela comprate poi? No, le comprò nel giornale che mi aveva dato la National Enquirer, che era la bibbia del gossip e me le pagò anche... Bene. Assolutamente. Le foto che abbiamo visto prima della signora col sedere nudo, perché senza mutande, cioè la baronessa Von Thyssen, io ho detto che le hanno fruttate 130 mila dollari al netto delle spese. Perché? Cioè, chi le ha pubblicate? In Italia chi le ha pubblicate? In Italia le ha pubblicate Panorama e l'Espresso. Sì. L'Espresso con cui lavoravo, mi avevano dato il compito a farlo, me le pagò due lire. Panorama le pubblicò tre volte e mi diede 10 milioni. E poi i 130 mila dollari perché le ha vendute all'estero? Perché ogni volta che quella foto andava su un giornale costava 5 mila euro, 5 mila dollari. E quindi? Quindi è andata dappertutto, addirittura in Austria, in Austria non ho mai venduto una foto. Questa? E questa qui andò perché sposò l'erede al trono austriaco e questa parola disgraziata che, se poteva mettere pure le culotte, si è trovata che ogni volta che parlavano di lei si sposò, andò in Croazia ad assistere la guerra. Allora lì e pum, la foto dei pizzi. Senta ma immagino che le donne, le signore, le dive, stiano molto attenti a non farsi riprendere senza mutande oppure col perizoma. Stanno attenti al lato B, credo. Allora, per dirti una cosa, nel primo libro che c'è la Galleria degli Orrori, c'è una signora pubblicata e questa qui è tremenda, l'abbiamo mandata pure prima. Allora, la cognata di questa signora, che è gente che durante il CAF, il periodo Andreotti, erano potentissimi, la sorella di questa signora, la cognata mi disse, mi rimproverò, a mia cognata l'hai messa ma a me no. E quindi? E io gli ho detto, non si preoccupi per la prossima volta. Cosa c'entra questo col fatto che... Perché allora, allora, c'entra che la gente vuole esserci. E quindi è disposta a farsi fotografare? Sì, ecco, è disposta a farsi fotografare. Senza mutande? No, senza mutande. Ah! Senza mutande. Ma anche se le fai vedere tutto, tutto, tutto botox e roba del genere, non gli importa niente. Basta apparire? Basta apparire. Questo è stato... Ecco, ma secondo lei, la cafonaggine, perché poi cafonal, ultracafo, ha una connotazione politica o è bipartisan? Cioè c'è più cafonaggine a destra o a sinistra oppure spalmata in modo trasversale? Guarda, io... Non voglio essere di parte. Chiaramente. Abbiamo detto... Abbiamo detto... Io sono di sinistra. Io sono di sinistra. Lei è di sinistra? Sì. Va bene, nessuno è perfetto. Vabbè, allora, il discorso è che in effetti la sinistra, specialmente i comunisti, che avevano una certa educazione, si comportavano in una certa maniera. Invece, la special modo, i leghissi, forza i taglioti, quando arrivarono la prima volta... Eccolo qui, Pizzi con la signora Bertinotti. La soralella. La soralella. E quando arrivarono... A Roma tutto diventa soralella, va bene. Quando arrivarono e loro mostrarono subito di essere molto sciolti, senza freni. I leghissi. I leghissi che dicevano, ah no, Roma ladrona, Roma qui, Roma là. E loro la sera se ne andavano... Dove? A tutta gnocca e nei locali. A tutta gnocca. A tutta gnocca. Sì, nei locali. E lì si capì che era nato il Cafonal. Il Cafonal. Cioè grazie ai leghisti. No, grazie a... Grazie a un certo... A un clima più generale, dica così, perché se no... No, no, per carità. Ci infiliamo in un ginebraio. Abbiamo visto Calderoli in Bermuda, dove stava? A Copacabana, no? No, è stata una festa dei leghisti. Una festa dei leghisti. Dove c'è la famosa foto... Di chi? Ah, la foto della copertina di Ultracafona, in cui poi, all'uscita, No, no, all'ingresso. All'ingresso, Umberto. Eccolo qua, l'abbiamo fatto tutto. Saluta affettuosamente. Pizzi. Poi, chi ci abbiamo dei politici tra Parlamento e Style? Vediamo. Perché se no sembrerebbe che si occupa solo del demimonde. No, no. Ecco, questo momento della battaglia parlamentare sulla prescrizione breve, credo, no? Il Parlamento è un posto inesauribile di forza. Il signore sta cercando il telefonino di Berlusconi, credo, più o meno, quello a sinistra. È un posto inesauribile. Alle spalle di Bersani, poi. Vediamo. Vabbè, questo è Dallemix con Marianna Madia, mi pare, accanto a un raffreddato fassino. Poi? Ma lei si diverte in parac... Questa è la Gelmini che... La Gelmini. Oggi ha raccontato che Berlusconi ha raccontato le barzellette in presenza di sua mamma o di sua suoccia, lo capito bene, e sono arrossite. Che ha riso? Sono arrossite, ha detto che erano un po' spinte, però va bene. Poi? Ecco, perché le piace il Parlamento, questa Paola Concia? Perché, cioè, io pensavo, fino al 2000 io non ho messo piede in Parlamento. Poi, siccome tra l'altro lavoro anche per un giornale romano, Il Tempo... Il Tempo. Devo farlo ogni tanto. E beh, il Parlamento io credevo che fosse una specie di chiesa, cioè, dove tutti sono vestiti, a noi pretendono la cravatta con la giacca, e invece sono sciolti, vedi... Vediamo, vediamo altre foto, grazie. Qui, eh, questa è a zompafosso. Zompa? A zompafosso. A zompafosso, sì, a zompafo, i pantaloni, diciamo così, una scarpa non esattamente femminile, però va bene. Se si sta comode. Questa è? È la Meg Ryan de Nohantri, la chiamo, sì, perché rassomiglia un po' a Meg Ryan. S'assomiglia un po' a Meg Ryan, se non è parlamentare. Questo è Renato Brunetta con la fidanzata. Questa è meravigliosa. Questa la trovo, una bellissima foto. Persone che si amano. E cosa che c'avete contro l'amore, scusate, eh? Poi... Lei è Titti Titti. Titti. Perché gli ho detto... Questo dove l'ha incontrato? Quando l'ha incontrato Marco Pannella? E chi se lo ricorda? E chi se lo ricorda? Marco Pannella si vede molto poco, però... Quando si vede però uno se lo ricorda, sì. Sì, sì. Si, sì. Si credo. Poi... Vabbè, qui, sempre istituzionale Gianniletta, che la leggenda vuole che quando ha... Gianniletta ha solo un difetto. La persona più educata... Sì, assolutamente. Ha solo un difetto. Siccome lavora moltissimo... Sì. Ogni volta che si mette a sede si addormenta. Ma non si siede mai, però. No, ogni volta... È vero, guarda, perché lavora talmente tanto che come trova una sedia... Bum, si sbraga. Questo è il divo Giulio che fa la comunione. Dove l'ha beccato qui? A Roma, immagino. Sì, a Roma. Poi? Abbiamo esaurito? No, credo che ci sia... Ancora, e basta? Se no è la volta buona che... Da ultimo credo che abbiamo una foto... Anche qui la bravura di Pizzi è prendere durante una festa con un ballo il momento proprio in cui la damigella d'onore della serie Chic si gira e contemporaneamente lei mostra l'alto e il basso. Vogliamo vederla se... Questa era meravigliosa, eh? Sì. Era una bella fanciuta. Non so perché non lo vediamo più in studio. Eccola qui. Questa è a Palermo. A Palermo. Era una festa. Sì. Che questa qui era con questo vestito che girava. Ma io la vedevo che era un po' sciolta, libera. E allora l'ho puntata, infatti. E l'ha presa nel momento esatto in cui, diciamo così, l'abito... Sì. L'abito... Che? L'abito? Vabbè, insomma... Vabbè, è una bella foto, una bella signora. Si divertivano, abbiati loro. Senta, ma c'è uno scatto che ancora non ha fatto e che vorrebbe fare? O uno scatto che invece ha fatto a cui tiene particolarmente? A cui è proprio affezionato? Guarda, lo scatto... Eccolo qua. Ma non me lo levate, eh? Questo è lo scatto a cui ci tengo... Di più. Sicuramente, perché siccome per me rappresenta una persona, un periodo, e lui si fermò da questi San Pietrini, quelli che mettono, vengono chiamati San Pietrini. I cubetti di Porfi, di San Pietrini, certo. Gli stramaledetti San Pietrini, ora i suoi asfalto liscio, bughe, cose, eccetera. Questa non è che mi abbia dato soldi, però è una foto che mi lascia qualcosa dentro. Quelle che non ho fatto... Sì, uno scatto che... Guarda, io ho fatto quasi tutte le foto che volevo. Quello che non ho fatto è perché non c'ero. Cioè, se io mi impegnavo, comunque facevo lo scatto. Io a Capri andai a fare una cosa sulla Taylor e Barton e non la feci la prima volta. Ritornai a Roma, dopo due giorni in Caponito ho detto no, io la devo fare. Sono ritornato a Capri. Cioè, Richard Barton e Ristello stavano in vacanza a Capri? Sì. Lei ha fatto un primo appostamento inutile? Sì, no, feci due foto così. Così? Dico, ma no, io la devo fare. Sono ritornato a Capri, ho guardato attorno, ho visto un albero, un pino mediterraneo, mi sono arrampicato, avevamo dei teleobiettivi che erano, praticamente li chiamo culi di bicchiere, perché valevano poco, e mi misi su un ramo, che potevo, e feci delle foto stupende, pagate moltissimo, della Liz Taylor in bichini, la cosa era che lei aveva tutti i rotoli di grasso sulla pancia e andarono a ruba quelle foto. Scusi, questo mi fa venire in mente una cosa, due anni fa, grosso modo, ha tenuto banco la polemica sulle famose foto fatte in Sardegna, alla residenza di Berlusconi, che aveva una serie di ospiti, da un fotografo che per molto tempo, da fuori, bravissimo, credo che sia Zappadu, Antonello Zappadu, ma secondo lei, visto che questo Zappadu, bravo collega suo, ha fatto le foto in un ampio arco di tempo, mitragliando di scatti la residenza, gli ospiti, Berlusconi, è possibile, secondo lei, che nessuno se ne sia accorto nella sicurezza del Cavaliere, nei servizi, non lo so? Allora, ricordate che tutti quei servitori si sentono sempre superiori al padrone, evidentemente ce n'era uno che dava le informazioni, non c'è niente da fare, e questo Zappadu, che bravissimo, era del luogo, si era trovato il suo posto, si è messo lì e gli dicevano guarda che c'è il tal De Dali, guarda che ci sono le donne, e lui andava e fotografava. Ecco, ma in questo caso, come nel suo caso con Richard Barton e Lee Steylor, visto che stavate facendo degli scatti da fuori, dentro una residenza privata, non si sta violando comunque la privacy, perché a casa propria, persino lei potrebbe decidere di girare in mutande a casa sua. Io per anni andavo a Porto Ercole, la mattina presto, e mi infilavo dentro una cosa, e c'avevo la villa, l'elefante bianco della regina d'Olanda, e quello era un posto, proprio un porto di mare, dove ci andavano tutti i reali, tutti i grossi personaggi, e io praticamente gli stavo sopra, tanto è vero che dovevo scattare, mentre parlavano, perché sinó si sentiva il click. Il rumore del click della macchina fotografica. L'hanno pubblicato, non mi è successo mai niente, però, è vero, non lo so, adesso hanno fatto delle leggi, stanno molto attenti, per cui uno deve stare attento. Mi dice quando pensa che Umberto Pizzi andrà in pensione? Ah, che ne so, ma... Per dire... No, 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 lasciamo perdere. C'è tempo? Sì, c'è ancora tempo. No, la ringrazio, perché guardando le sue foto, i servizi dei giornali, da Gospia, quando vedo le foto delle vostre feste, delle feste che voi, insomma, certificate con le immagini, sono sempre contento di essere stato da un'altra parte, nel senso che molti di questi soggetti, diciamo così, ecco, qua c'è padre Georg, la didascaria di quel mascazzone di Agostino, è quel gesto delle madri di padre Georg, cosa vorrà mai dire a saperlo? Senti, vorrei dirti una cosa, forse lo diventerai un soggetto, perché stasera due fanciulle, Maria Luisa e Monia, mi hanno scritto che c'è un fans club pirosissime, pirosissime, della serie 10, il quale ti amano, sì, mi amano, forse verrai mazzolato, solo così, per principio. Vabbè, grazie, nell'attesa per chi vuole conoscere meglio gli scatti e i commenti di Dago Spia, Dago Schino, Cafona, Ultra Cafona, grazie Pizzi, subito dopo lo vuole un soggetto da fotografare, Madalina Ghenea, da Ballando con le stelle, grazie.